Grazie anche per le considerazioni che poi alcune cose riprenderò. Ora ecco sempre un'altra associazione ambientalista importante, Franco Ferroni, responsabile agricoltura WWF Italia. Prego. Allora grazie per l'invito, secondo noi è un'occasione importante per riflettere su un problema serio, i dati che Ispra ci ha presentato in qualche modo ce lo confermano. Io partirei proprio dall'attendibilità del rapporto, non nascondiamoci che negli ultimi anni quando questo rapporto è stato presentato è stato generalmente accolto da critiche che miravano essenzialmente a screditare i suoi contenuti, delegittimando i dati e il lavoro di monitoraggio che era stato svolto dal sistema delle Ampa. Ce lo ricordiamo tutti. Invece di entrare nel merito dei problemi che erano a monte dei dati che Ispra presentava, si contestava l'attendibilità del dato e del rapporto. Secondo noi la conoscenza del problema è la premessa indispensabile per poterlo risolvere, quindi ringraziamo Ispra per aver fatto ancora una volta e con rigore aver svolto il proprio compito fornendo un'analisi dei dati attendibili nei limiti di quelli che sono il sistema di monitoraggio. Questo lo sappiamo, però va evidenziato il fatto che quando i pesticidi li cerchiamo purtroppo li troviamo e li troviamo in percentuali sempre più preoccupanti. Per risolvere i problemi però è necessario riconoscere anche le responsabilità in relazioni alle cause che determinano le minacce di contaminazione dei pesticidi perché secondo me è molto pericoloso adottare la logica tutti colpevoli, nessun colpevole. va detto con chiarezza, dal nostro punto di vista il mondo agricolo resta sul banco degli imputati in modo devo dire rilevante, non è il solo, questo è vero, sarebbe sbagliato individuarlo come l'unico responsabile. Il problema è che se dobbiamo trovare altri responsabili questi andrebbero cercati in particolare tra i decisori politici e gli amministratori che hanno soprattutto rispetto all'applicazione del pan pesticidi devo dire suggerito delle soluzioni nella logica del gatto pardo e i problemi non si risolvono con soluzioni teoriche che restano sulla carta devono riuscire a trovare applicazione in campo, direi nei campi, meglio ancora. Io faccio solo un esempio molto pertinente a mio avviso ed è il decreto del marzo 2015 sulle linee guida per la riduzione dell'impatto dei pesticidi nelle acque e nelle aree protette e nei siti di Natura 2000. Allora queste linee guida sono ad oggi rimaste in gran parte sostanzialmente sulla carta. Io aspetto con ansia i dati sui risultati raggiunti nell'applicazione delle misure volontarie dei 21 PSR, delle misure del PSN sulla gestione delle risorse idriche. Il 21 maggio, proprio in questa sala, la Rete Rurale Nazionale presenterà un quadro di quelle che sono le opportunità offerte dai PSR sulla tutela della biodiversità e Natura 2000. Sarà una prima occasione per incominciare ad approfondire il tema. Ma è indiscutibile, questo ce lo dice il Ministero dell'Ambiente, non lo diciamo noi, che oggi non abbiamo nessun dato certo su come sono state applicate quelle linee guida, sia rispetto alla riduzione dell'impatto sulle acque, ma ancora peggio sulla riduzione dell'impatto nelle aree più vulnerabili e più preziose per la biodiversità. E io qui voglio ricordare per l'ennesima volta, diventerà una sorta di mantra da qui per tutta la discussione della prossima riforma della PAC, che la stessa Commissione europea nel 2015 ci ha ricordato e evidenziato in modo molto chiaro e netto che la causa principale di perdita di biodiversità in Europa è rappresentata dall'agricoltura, essenzialmente con due drive, due effetti, due cause principali che determinano l'effetto rilevante su tutte le tipologie, habitat e categorie di specie. E queste stesse sono la semplificazione degli agroecosistemi e l'altro l'uso dei pesticidi. Vogliamo continuare a ignorare i dati che ci vengono forniti ancora una volta dal monitoraggio che è sempre fatto dall'ISPRA in un altro ambito, che sono l'articolo 12 e 17 delle due direttive biodiversità. Bene, continuiamo a farlo, dopodiché nel 2020 verremo tutti qui a piangere lacrime di coccodrillo e prendendo atto dell'ennesimo fallimento della strategia europea sulla biodiversità, come abbiamo già fatto nel 2010. Quindi cosa serve a nostro avviso? Serve un cambio di paradigma. Bisogna ribaltare completamente l'approccio, in particolare da parte del mondo agricolo. Bisogna far sì che l'uso dei pesticidi diventi l'eccezione, non la norma. Soprattutto non diventi la norma in termini di gestione ordinaria, addirittura con un approccio preventivo. Io non sono, come dire, radicale. Mi piacerebbe un mondo in cui si possa pensare a un'agricoltura completamente biologica. Però io sono consapevole che ci sono delle situazioni in cui l'uso dei principi chimici di sintesi è indispensabile in alcune situazioni. Il problema è che quest'uso dovrebbe essere veramente l'eccezione e dovrebbe essere utilizzato nel momento in cui c'è effettivamente bisogno. Quindi in questo senso benvenga tutto il dibattito e l'evoluzione in corso sull'agricoltura di precisione, ma questa cosa funziona nel momento in cui diventa strumento di applicazione di questo nuovo paradigma che vede l'uso della chimica come ultima razio. L'agricoltura integrata non è finanziata. Mi dispiace, dottor Blasi, a noi non risulta. Due minuti. A noi non risulta. La rete rurale nazionale, non io, ci ha presentato dati in cui oggi ci viene detto che nella programmazione 2014-2020, quella che doveva supportare l'applicazione del PAN, l'agricoltura integrata volontaria oggi viene finanziata più del biologico. Allora c'è qualcosa che non va. I dati non li ho presentati io e li ha presentati il CREA. Dopodiché possiamo ritirarli fuori e magari li esaminiamo meglio e li discutiamo. Però ad oggi risulta così. L'agricoltore che continua a usare fitofarmaci viene premiato dai PSR più di quello che ricevono come sostegno, come premio, gli agricoltori che praticano il biologico. Chiudo con una presa d'atto. Il vento sta cambiando. Sta cambiando il vento. Questo ce ne accorgiamo per tutta una serie di motivi. Cioè ci sono indicatori che ci dicono che il vento cambia. I consumatori che ricercano sempre di più prodotti biologici. Incremento negli ultimi due anni del 20% dei consumi del biologico. Ma anche le grandi imprese dell'agroalimentare si sono accorti, come diceva giustamente il dottor Blasi, che la sostenibilità diventa elemento di competizione sui mercati. E abbiamo delle ditte importanti dell'agroalimentare italiano che stanno puntando sul biologico. Era inaspettato che Barilla arrivasse sul mercato italiano con la pasta biologica e posso anticipare che a giugno avremo anche biscotti e altri prodotti a marchio mulino bianco o a marchio biologico. Ci sono i comuni cittadini e le amministrazioni locali che si stanno ribellando a un uso insensato dei pesticidi. Le tre marce che verranno svolte domenica prossima in Veneto e nella provincia di Bolzano sono un esempio di quello che si sta muovendo in termini di ribellione. Ma non dimentichiamoci un milione e trecentomila firme raccolte per dire stop al glifosato. Chiudo con un segnale che a me preoccupa anche se potrebbe essere da ambientalista potrei considerarlo positivo ed è il segnale che ci ha mandato di recente la magistratura con l'intervento svolto a Udine sequestrando campi per un uso eccessivo di pesticidi dove per la prima volta l'uso eccessivo dei pesticidi è stato messo sotto accusa come causa di disastro ambientale colposo. Allora arrivati a questo punto quello che noi auspichiamo è che l'aggiornamento del PAN e contestualmente il dibattito sulla riforma della PAC post 2020 siano l'occasione per una seria riflessione e un autentico confronto partecipato su quelle che devono essere le strategie e le azioni per concretizzare delle soluzioni efficaci a una situazione critica che i dati del rapporto ISPRA ci confermono e rendono ancora più evidente. E rispetto all'allarme lanciato da Blasi io sottolino un ulteriore elemento di preoccupazione perché la stampa ha riportato essenzialmente l'informazione di una notizia generica 5% di taglio sul budget europeo sulla PAC. Noi siamo andati a guardarlo un po' meglio il documento della Commissione Europea in realtà se esaminiamo i dati e la tendenza e la volontà politica della Commissione quel 5% si traduce in realtà in un 26% di taglio sul secondo pilastro perché la volontà politica è quello di mantenere fermo il finanziamento su primo che sappiamo essere un finanziamento a pioggia basato essenzialmente sulla rendita fondiaria e si andrà a penalizzare il secondo pilastro dove lì ci sono tutti gli strumenti per affrontare anche l'emergenza pesticidi. Questo è il problema che abbiamo di fronte e che dovremo cercare di affrontare io dico anche tutti insieme perché se viene tagliato il 26% dal sviluppo urale ci rimettono gli agricoltori ma ci rimettiamo anche noi ambientalisti che rappresentiamo gli interessi diffusi dei cittadini. Grazie.